E' la bellissima, le suite costano così tanto, è impossibile Ed effetti questo albergo che voleva a tutti i costi entrare nel Guinness dei primati Ha fatto una cosa, prendete affitta, dice vi do un appartamento Vi do una suite, 671 mila dollari a notte Ma dovreste chiedervi quante stanze ha questa suite? Si ne ha esattamente 178, 9 ristoranti, saune e piscine Quindi in realtà voi affittate l'intero albergo Per all'incirca 500 persone, ma che non rende poi meno costose in realtà No, però oddio, se si fa la romana Si si fa la romana, però diciamo circa 600, vabbò, 600, arrotondiamo, 670 mila 6700, no, vabbè, io mi sono perdita Proviamo a fare il calcolo, fate il calcolo voi Allora, 670 mila dollari diviso 500 ospiti Quanto fa a testa? Quanto fa a testa? I know there's pain Why do you lock yourself up? Grazie a tutti.